Stamana risultava aperto come se niente fosse, come se la serata di soltanto qualche ora prima, conclusasi con due feriti e un uomo arrestato e processato per direttissima, non ci fosse nemmeno mai stata. Eppure vi hanno assistito in tanti, erano da poco passate le 23 e anche numerose famiglie con i bambini per mano stavano rincasando dopo l'ultimo giovedì di songe o estate. Grida, agitazione, spintoni e poi auto della polizia e dei carabinieri, l'ambulanza, il teatro sempre lo stesso, parte alta dei giardinetti di Piazzale Bertacchi dove affaccia il bar a luogo di ritrovo soprattutto della comunità sudamericana di Sondrio e di un numero considerevole di soggetti pluri pregiudicati. Ieri sera l'ennesima violenta rissa e questo sebbene il bar non possa più distribuire alcolici dopo alle 21 e 30 e abbia il coprifuoco alle 23 per decisione del comune di Sondrio, proprietario peraltro dello stabile. Niente da fare, a pochi passi dal centro cittadino e dalla stessa prefettura, nell'esercizio pubblico che detiene il poco invidiabile record di tre sospensioni di licenza nel giro di un anno e mezzo, in un attimo si è scatenato l'inferno. Sotto gli occhi di tutti, assiepati per capire che cosa stesse accadendo, visto il dispiegamento di forze dell'ordine. Poche decine di metri oltre, su via Trieste, un uomo semi-incosciente ha casciato a terra accanto alla bicicletta. In una sondrio arroventata dove l'uscita del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Mauro Verga, che ha auspicato l'intervento dell'esercito nelle zone più critiche, ha sollevato la fiera reazione di Sondrio Democratica e PD, viene ancora più da chiedersi chi abbia ragione. Emergenza sicurezza o disagio sociale da contrastare con misure più inclusive che repressive? Il sindaco Marco Scaramellini, informato dell'accaduto, stamane ha parlato con il prefetto Roberto Bolognesi e con il questore Sabato Riccio. Attendo l'esito delle indagini che dovranno appurare i fatti nel loro preciso svolgimento, ha detto. Fiducioso che il lavoro svolto dalle forze dell'ordine ricostruirà nei dettagli quanto avvenuto ieri sera. Siamo consapevoli del clamore e della preoccupazione che questi fatti fortunatamente estemporanei suscitano nei cittadini e siamo impegnati in un continuo confronto con le forze dell'ordine perché i responsabili vengano individuati e perseguiti.